Una corposa delegazione di studenti del Piria sono a Palazzo Campanella per ottenere delle risposte in merito alla questione del dimensionamento scolastico e dunque del nuovo ripiano per quanto concerne proprio l'assegnazione di queste scuole, del Piria in particolare ma anche di altre scuole. Qual è la situazione attualmente? C'è la disponibilità di affrontare questo argomento quando sarà di competenza del Consiglio regionale, premesso che la competenza della città metropolitana è quella di fornire degli indizzi rispetto alla questione specie. La volontà di accorpare credo non risponda ad una logica di efficienza e di efficacia di un servizio che è quello della didattica e che bisognerebbe offrire in modo da consentire agli studenti la migliore formazione possibile. Io mi auguro che su questo ci sia a monte una valutazione attenta che risponda a logiche che comunque qualcuno ci dovrà pure spiegare. Adesso voglio dire a priori però crediamo che la questione debba essere valutata con un altro senso di responsabilità e auspichiamo che il Presidente della città metropolitana si ravveda rispetto ad un provvedimento che per noi ammette molte criticità. Grazie a tutti.